È stata rinnovata in questi giorni tra l'Ordine degli Avvocati e Penalisti di Piacenza e la Camera di Commercio la Convenzione che fisse i presupposti sui quali procedere a garantire lo svolgimento delle attività di mediazione. È una forma di giurisdizionalizzazione, consente ovviamente di ricorrere a misure alternative alla risoluzione delle liti, alternative ai tribunali. Sappiamo che i tribunali sono ingolfati, che i tribunali non ce la fanno più, quindi lo Stato abdica in questo suo ruolo, in questa sua funzione giurisdizionale e si rivolge anche alla possibilità di questi organismi di mediazione di tentare risoluzione di controversie civili. A Piacenza sono stati 354 i procedimenti avviati nel 2016 e il 72% dei casi ha avuto esito positivo raggiungendo un accordo. Le materie sulle quali è utile una risoluzione tramite mediazione vanno dalle liti di condominio alle successioni ereditarie, dal risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria ai contratti assicurativi fino alla diffamazione a mezzo stampa.